Ciao ragazzi e benvenuti su un nuovo video, sono D117 e oggi ragazzi ho pensato di portare un video molto bello ragazzi, ho pensato di portare una tier list su Asmi Hotel, ora per chi non lo sa cos'è una tier list? Allora c'è un sito che si chiamava Team My Maker che è un sito dove tu puoi mettere dei personaggi che ti piacciono di più, personaggi che odi di più, personaggi che ti piacciono così così, come ad esempio Foxy ti piace o non ti piace, ecco preferito e lo metti in S, ma non muoio, lo metti in OG, ma non muoio, lo metti più in marzo, in F. Ragazzi oggi ho pensato di portare una mia tier list su Asmi Hotel, ragazzi se volete posso portare anche una tier list su Eluma Box, allora ragazzi prima di iniziare lasciate un bel like se vi piace questo video, iscrivetevi al canale se non avete ancora fatto, mettete la cappellina delle notifiche in modo che non prendiate nessun video, ragazzi possiamo iniziare. ok, partiamo l'ottimo, allora partiamo da Charlie, allora Charlie secondo me la verità, Charlie è una dei miei personaggi preferiti, mi piace molto come tagliare il design, poi mi piace anche come si resta all'inizio, perché mi piacerà lo smoking per Charlie quando deve andare alla News66 e quindi mi piace, Charlie mi piace, è uno dei miei preferiti, quindi Charlie la metto al primo posto, perché Charlie è la mia preferita. Listi diciamo che mi piace, diciamo che mi piace perché è caratterizzata molto bene, Listi diciamo che mi piace come caratterizzata, però comunque Listi non mi fa tanto facile, quindi lo metto in B, lo metto in B ragazzi, Master, Master non lo conosco, Master davvero non lo conosco, perché Master finora non l'abbiamo già visto in Jasmine Hotel, ma io anche io non sto aspettando che che esca, che escano gli episodi di Jasmine Hotel, finora abbiamo visto il pilota di Jasmine Hotel, ma nel pilota non c'è Master, e io per me Master non so se è il mio preferito oppure no, però Master comunque lo metto in C, perché non mi fa non mi fa tanto, non mi fa tanto, non mi fa tanto facile, Master. Anascore lo metto in S, perché Anascore è il mio preferito, si Charlie è la mia preferita, ma mi piace di più Anascore, perché Anascore, è molto figo come personaggio, è caratterizzato in modo veramente speciale, proprio bellissimo. Anascore è molto bello, poi il design, è figo il design, è figo come personaggio, è molto figo Anascore. lo metto in S, perché Anascore è il mio preferito. Allora, poi Lucifero abbiamo, Lucifero. Allora, Lucifero, non lo conosco, però lo metto in C, perché Vos, 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 comunque io Vos lo metto in, in S, perché Anascore, anche Vos è il mio preferito, perché mi piace il design, perché è proprio, proprio perché l'applicazione, proprio l'applicazione, proprio l'applicazione, c'è, è bello, c'è, perché ma mi, non riesco a parlare. Molto bello, Vos. Poi abbiamo il tizionale, lo metto in G, perché mi fa abbattare cosa schifo. Ask, Ask lo metto in C, perché non mi piace molto Ask. Allora, lei non so come si chiama, ma, ma lo metto in C, comunque, perché anche il personaggio non mi fa, non mi piace molto, per ora, cioè, non la conosco, però, poi lei, lui, dove c'è anche lui il capo, anche lui, si, allora, Vos è uno dei miei personaggi preferiti, perché come caratterizzata è molto costa, perché mi sembra un personaggio che non si fa molto mettere il piede in testa, ecco, quindi si, mi piace, non è la mia preferita, però, mi piace, mi piace, lo, lo metto, mi fa schifo, lo metto in G e in G e in G lo metto anche lui, perché mi piace anche lui, e in G e in G è fatto bene, anche se mi fanno schifo gli anni, ma, comunque, mi piace Angel, perché, mi piace Angel, perché è molto caratterizzato, vede? Allora, voi, poi, che si che non ti auguri, mi fa schifo, allora, C'è Lim Ferguson, C'è Lim Ferguson, sì, mi piace anche lei, metto i Language, eh non è la preferita, comunque, ma, comunque, mi piace come personaggio, e con Panacca mi fa schifo, anche lui e Ivi, poi, oddio, lui, oddio, non lo so, vabbè lo metto in C. Invece Speritus lo metto in C. Ok ragazzi, questa è tutta la mia playlist dei miei personaggi di Ashmi Hotel e ragazzi ricordate ragazzi che queste sono le mie opinioni ragazzi. Quindi ragazzi, io spero che questo video vi sia piaciuto, seguitemi su social, su Instagram, su Facebook e gli altri social. E ragazzi, seguiamo al prossimo video. Ciao ragazzi! Ciao!